Salve, sono Marco Pio Magli della Link SL di Roma, anche quest'anno siamo qui all'ISI presentando nuovi prodotti, nello specifico quest'anno presentiamo il nuovo prodotto basato su Dante, con gli stage box audio a trasportare fino a 16 ingressi e auto uscite, oltre questo presentiamo degli switch rugged per applicazioni live, sono basati su switch Cisco con porte Everton sono realmente ridondanti, due switch, doppia alimentazione, costruiamo anche un battery pack per eventuali assenze totali di elettricità, quindi lo switch che è l'ultima cosa, la più lenta a risalire comunque può essere mantenuto acceso per molti minuti e questo è quello che aggiungiamo alla nostra produzione storica di cavi, connettori, anche ipoli, la gente in Italia ci conosce e noi stiamo presentando nuove cose, per questo ringraziamo anche Connessione che ci dà l'opportunità di farvele vedere.